Una storia a lieto fine, quella che viene da Corigliano, meta di uno dei viaggi della speranza che portano in Italia migliaia di cittadini extracomunitari. Molti infatti sono minori non accompagnati che arrivano sulle nostre coste, la cui gestione è decisamente difficile. Tra questi anche Sisse, bimbo ivoriano di soli 5 anni. Il piccolo però ora potrà riabbracciare suo padre che era già in Italia. A rendere noto questa storia è stato il leader del movimento diritti civili Franco Corbelli. La mamma del piccolo Sisse, infatti, era stata fermata agli scafisti e rinchiusa in un campo lageri in Libia perché non aveva i soldi per pagare il viaggio. La donna quindi aveva deciso di affidare il piccolo ad un altro ivoriano affinché potesse arrivare in Italia e ritrovare il padre. Grazie al lavoro di diverse organizzazioni è stato rintracciato il padre del bimbo che vive in Francia e che ora è tornato in Italia per riabbracciare il figlio. Secondo Corbelli, soddisfatto dell'esito della vicenda, bisognerà ora rintracciare Libia, la madre del piccolo, e riportarla in Italia e per questo ha chiesto aiuto al governo.